Riesci a localizzare la posizione del Signor Wingnut? Il sonar mostra molte onde sonore che rimbalzano sulle rocce. Quello in cui siamo sembra un canyon piuttosto rumoroso. Probabilmente si tratta dell'eco che amplifica tutti i suoni. Come lo troviamo? Queste onde sonore mostrano che lo yodel proviene da... questa zona. Ma sembra in compagnia. Ben fatto, Zuma. È il momento di allontanare quei luchi. Marshall, dirigiti nel canyon a sud-est. Li troverai, Signor Wingnut, insieme ai luchi. Ricevuto. Dirò a loro di allontanarsi in questo modo. Oh no! Sembra un altro lupo. Forse hanno trovato un altro capo. Credo di poter scendere. Ottimo lavoro, Marshall. A quanto pare sei diventato tu il loro capo. Hai ragione, Rubble. Forse ora mi seguiranno. Marshall, funziona. Io vado a soccorrere il Signor Wingnut. Signor Wingnut, sono Rubble. Dov'è finito? Ha volato dietro questo grosso masso. Ma il mio yodel e gli ululati dei lupi hanno causato la frana. Ryder, abbiamo un problema. Abbiamo sentito, Rubble. Il sonar di Zuma ha mostrato delle onde sonore molto forti. E ora abbiamo un altro problema, Ryder. Quel temporale che cercavamo di evitare è quasi arrivato. Dobbiamo liberare il Signor Wingnut prima che il canyon si allaghi. Rubble, togli di mezzo quel masso. Ryder, il masso è troppo grande. Metticela tutta, Rubble. Ryder, Marshall è diventato il capo branco. Dà un'occhiata. Ottimo lavoro, Marshall. Il rumore. Ma certo. Marshall, porta il tuo branco fino al Pou Patroller. Sul serio? Va bene. Da questa parte, amici. Chase, tieni pronto il megafono. Frantumeremo quel masso con la forza del suono. Cuccioli, vi presento i miei nuovi amici. Lupo, lupetta e lupino. Salve, come va? Benvenuti. Chase, attiva il tuo megafono. Dirigiamo l'altoparlante verso il masso. Rubble, Signor Wingnut, scopritevi le orecchie. Stiamo per dare inizio a un concerto rock. Il megafono è pronto, il microfono è acceso e il volume è già al massimo. È ora di ululare. E uno e due... Wow, queste onde sonore riusciranno a frantumare quel masso. Ha funzionato! Corra, Signor Wingnut, prima che il canyon si allaghi. Robo Cucciolo, portaci via dal canyon. Inserisci la retromarcia. Che cosa ci fanno quei lupi qui? Niente paura, sono amici. Grazie, Ryder e Cuccioli. E anche a voi, lupi. I vostri ululati supersonici mi hanno salvato dal canyon. Non c'è di che. Ogni volta che si mette nei guai con lo yodel, noi siamo a disposizione. Ma certo! Ipi yoi e se signore! Yolololò! Yololò! 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 Abba, 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 Troll!